Ci troviamo di fronte al Net Center dove i vigili del fuoco hanno appena finito di domare un incendio scoppiato nel parcheggio sotterraneo. Coinvolte due auto, una Porsche e una 500. Non si capisce il perché delle fiamme, ora bisognerà capire il motivo dell'innesco, se è un cortocircuito o qualcosa di più. Ci spiega allora che cosa è successo? Sono uscito dalla porta antincendio del garage e ho visto due macchine che andavano a fuoco, una Fiat 500 e una Porsche Panamera. Il fuoco partiva dal basso, si propagava sulle fiancate e usciva dal cofano delle macchine. Ho pensato di chiamare i vigili del fuoco e di avvertire il personale affinché evacuassero gli uffici. e si mettessero in sicurezza. Ma si è capito il motivo di questa cosa? È stata un'esplosione oppure ha solo preso fuoco la macchina? Era un GPL? No, io non credo che le macchine fossero GPL. Non ho idea da dove sia partito l'incendio perché non c'era nessuno nel garage, le porte del garage erano chiuse e basta. Quindi non so se imputare la causa a qualcosa di doloso o se magari si è sviluppato per un innesco con un cortocircuito o qualcosa sulle macchine. Che auto ci sono all'interno di questo parcheggio? Auto aziendali? Sì, ci sono auto aziendali e ci sono auto di proprietà di persone che lavorano in questo complesso. Tra cui le due macchine che sono andate a fuoco sono di persone che comunque operano all'interno del complesso Net Center. Va bene.